Hai mai avuto la sensazione che la giustizia fosse vicina, solo per poi sfuggirti come sabbia tra le dita? Per Nihan e Kemal, la lotta sembra finalmente giunta a un punto di svolta, dopo una serie infinita di inganni, crimini e tradimenti. Ma la strada verso la verità è ancora piena di insidie. Prima di addentrarci in questa storia, ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella. Non vorrai perderti neanche un istante di questa avventura. Asu si trova faccia a faccia con la possibilità di una condanna che la terrà lontana dalla libertà per sempre. Ogni crimine che ha commesso, dall'avvelenamento di Osan all'omicidio di Tufan, fino ai tentativi di eliminare Nihan, pesa su di lei come un macigno. La sua rete di inganni sembra finalmente pronta a crollare. Ma, proprio quando la sentenza sembra inevitabile, un colpo di scena scuote le fondamenta del caso. L'avvocato di Asu, astuto e manipolatore, mette in gioco la carta più inaspettata, una diagnosi psichiatrica risalente alla sua adolescenza. È un tentativo disperato di dipingerla come incapace di intendere e di volere, cercando di trasformare una condanna certa in una possibilità di trattamento in un ospedale psichiatrico. La tensione si taglia con un coltello. Può davvero Asu sfuggire alla giustizia, ancora una volta? Ogni parola pronunciata in aula carica di tensione l'aria. E ogni sguardo dei presenti riflette un misto di speranza e paura. Nian e Kemal non possono credere che, dopo tutto ciò che hanno passato, la loro nemica giurata possa sfuggire alla punizione. Ma le sorprese non finiscono qui. Merkan, l'investigatore che ha dedicato ogni respiro a smascherare i complotti di Asu, compie un passo fondamentale. Finalmente, riesce a scovare il complice di Asu e Tufan, l'uomo che ha aiutato a inscenare il finto rapimento che aveva lo scopo di incastrare Kemal. Ali, spinto dal timore di ripercussioni legali, o forse da un senso di lealtà spezzato, decide di parlare. E ciò che rivela lascia tutti di stucco. Asu non è mai stata in pericolo, e l'intero piano era una farsa per distruggere Kemal. La maschera di Asu cade in frantumi, rivelando la sua natura manipolativa e spietata. Ma sarà sufficiente per fermarla? A questo punto è il momento di chiederti. Credi che la giustizia riuscirà a prevalere, o che Asu troverà ancora una scappatoia? Scrivilo nei commenti! Il dramma si intensifica. L'aula del tribunale è gremita, e ogni volto è concentrato su Asu, la donna che ha manipolato, ingannato e distrutto vite senza battere ciglio. Le accuse vengono lette una per una, e ogni parola del giudice è come una stilettata per lei. Per Nian e Kemal, invece, rappresentano una speranza, un faro nel buio di un incubo che sembrava eterno. La richiesta di condanna all'ergastolo aleggia nell'aria, e tutti trattengono il respiro. Ma, in un ultimo disperato tentativo, l'avvocato di Asu gioca la sua carta. Un appello alla sua presunta infermità mentale. È un colpo di scena che scuote l'aula, facendo crescere tensione e rabbia. Nian stringe i pugni. Il dolore che ha subito non può essere cancellato così facilmente. Il giudice decide di sospendere il processo per permettere una valutazione psichiatrica approfondita. Mentre Asu viene portata via, l'aula si riempie di un senso di incompiutezza. È davvero possibile che la giustizia venga negata ancora una volta? Ogni giorno di attesa si trasforma in un tormento. Le visite psichiatriche sono intense, e ogni parola «dei medici», ogni comportamento di Asu, viene analizzato con estrema attenzione. Le speranze di Nihan e Kemal vacillano, ma il loro desiderio di vedere Asu pagare per i suoi crimini non si spegne. Dopo settimane di tensione, arriva il giorno tanto atteso. L'aula del tribunale è nuovamente gremita. Tutti gli occhi sono puntati su Asu, che appare stranamente calma. Il giudice legge le conclusioni della perizia psichiatrica. Secondo i medici, Asu è pienamente capace di intendere e di volere. La sentenza esplode come una bomba nell'aula. Finalmente, il peso delle sue azioni ricade su di lei. Il giudice si prepara a emettere la condanna definitiva, l'ergastolo per i crimini commessi. Nihan e Kemal si scambiano uno sguardo, sapendo che questo è solo l'inizio di una nuova fase delle loro vite. Ma proprio quando tutto sembra concluso, Asu si volta verso Nihan con uno sguardo che gela il sangue. Un sorriso enigmatico si dipinge sul suo volto, mentre sussurra parole che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Lascia intendere che, anche dietro le sbarre, la sua sete di vendetta non si è placata. Il pubblico trattiene il fiato. È davvero finita? O è solo l'inizio di un nuovo capitolo di manipolazioni e intrighi? La paura e il dubbio si mescolano con un senso di sollievo amaro. Per Nihan e Kemal, la lotta non è finita. Potrebbe appena essere cominciata. Grazie di cuore per essere rimasti con noi fino alla fine di questo viaggio carico di emozioni, suspense e colpi di scena. La storia di Nihan, Kemal e Asu ha intrecciato le loro vite in un labirinto di vendetta, speranza e desiderio di giustizia. Insieme abbiamo vissuto il peso delle loro scelte, la lotta per la verità e le sfide di un destino che sembra sempre in bilico. Il vostro sostegno è ciò che ci spinge a raccontare storie così intense e coinvolgenti. Perciò, se anche voi avete trattenuto il respiro, provato rabbia, speranza o sorpresa, lasciate un like a questo video. Ogni piccolo gesto aiuta a costruire un angolo speciale per chi, come voi, ama farsi travolgere da narrazioni avvincenti. Vi invitiamo a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per non perdere i prossimi capitoli e le storie ancora da scoprire. Ogni episodio nasconde nuovi segreti, intrighi e speranze che vi terranno incollati allo schermo, proprio come è accaduto oggi. Non vogliamo che nessuno di voi perda l'occasione di restare connesso a questa incredibile avventura. Ora, vi lasciamo con una domanda che speriamo continui a riecheggiare nelle vostre menti. Davvero il destino di Asu è segnato? O quell'ultimo sorriso ce l'ha ancora qualcosa di oscuro e pericoloso? Scriveteci le vostre opinioni nei commenti. Siamo curiosi di sapere se pensate che la giustizia abbia vinto o se un nuovo capitolo di intrighi attende di essere scritto. Grazie, ancora una volta, per il vostro tempo, per la vostra passione e per essere parte della nostra community. Non smetteremo mai di raccontare storie che vi emozionino, che vi facciano riflettere e che vi accompagnino con la forza della narrativa. Restate con noi, perché il viaggio continua e le sorprese non sono mai finite. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre qui, dove la realtà incontra la suspense e il cuore batte più forte. Alla prossima!